Vini, eccola qui in grafica, chiudere gli italiani alle 22 in casa mentre a Lampedusa sbarcano migranti a centinaia non ha senso ed è immorale, una dichiarazione di poco fa. Roberto Chiuto, Forza Italia, deputato, oggi qualche quotidiano riporta indiscrezioni secondo le quali il governo, influenzato soprattutto dalla posizione del ministro della salute, sarebbe intenzionato a rinviare alla prossima settimana ogni possibile ragionamento in merito alla revisione del coprifuoco. L'accordo politico era chiaro, venga subito convocata una cabina di regia, chiudiamo con una dichiarazione di un tecnico che è il professor Fabrizio Pregliasco, che verrà a trovarci tra poco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, ogni contatto va considerato a rischio, se ne limitiamo il numero abbassiamo il rischio di contagio, il coprifuoco è ancora necessario. Dai pure il premio Aldo. Allora, premio è presto detto, gli sbarchi a Lampedusa secondo me vanno fermati ma non c'entrano nulla col coprifuoco. Ho chiuto, ho fatto una dichiarazione talmente complicata, burocratica, che anche solo per il pregio della lingua, e non lo dico perché viene adesso, do senz'altro l'Oscar al professor Pregliasco. L'Oscar a Pregliasco, vince a Maniboss, però con Salvini.